stai aspettando i regali stiamo aspettando i regali e bisogna avere un po di pazienza amore no amore quali sono finti sono finti hai fatto una scorreggina paloma pronta vai pronta pronta aspetta aspetta non l'ho ancora lanciato paloma paloma devo lanciarti aspetta paloma vai vai paloma vai vai amore è lì è caduto vai bravissima se questo non è talento no no però devi prenderlo amore amore devi prenderlo brava che sei tornata ma sei tornata senza frisbee amore capito è come se fossi un cane da salvataggio vai a salvare quello che annega ma non lo riporti arriva capito bravissima bra ok sì in effetti non so perché lanciano i frisbee ai cani perché comunque non avete il pollice opponibile ed è molto difficile per voi sollevare il frisbee ok sto apprezzando l'impegno amore brava bravissima ok pronti via vai no amore l'hai superato è lì no amore l'hai superato è lì no amore l'hai superato è lì e e